I carabinieri a Margherita di Savoia, in una brillante operazione svolta questa notte a luna circa, hanno arrestato quattro uomini di Cerignola che avevano appena rubato un Alfa Romeo Giulietta. Secondo fonti riservate, i malfattori avrebbero rubato l'auto lungo corso Vittorio Emanuele e si sarebbero diretti verso Trinitapoli. I militari si sarebbero lanciati all'inseguimento della vettura per le vie cittadine e avrebbero bloccato la fuga dei quattro cerignolani all'oltrizia di Porto Canale. Maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore.